Lavoro di squadra per noi significa rispetto per il lavoro della compagna, annullare ogni personalismo e lavorare sempre in funzione della compagna. Significa fiducia in tutte le persone che lavorano per noi e con noi, esserci sempre per la compagna, sia all'interno che al di fuori dalla pedana, sia nei momenti belli, ma soprattutto in quelli più brutti.